un processo politico di questo tipo, nel senso che le astiscelle si mettono facendo questa cosa per cui uno dice voglio 100 chiedo 300 ma questo appunto non si fa chiaramente la vera risposta è che in questo momento non lo so ma lo sapremo secondo me no, credo che un modo di guardare questa cosa sia guardare, stavo pensando prima anche sentendo pezzi di interventi degli altri, cioè ci sono un po' quattro assi di lavoro da portare avanti insieme uno sicuramente è quello della ricerca perché in realtà siamo convinti di sapere tanto in realtà più chi ne sa tanto ti dice non sappiamo niente, cioè sappiamo poco se non altro cosa è un grande proprietario ad esempio, io sono sempre rimasto sconvolto su Milano da questa cosa qua cioè avere diciamo una bella ricerca del Politecnico su questa cosa qua però diciamo sapere chi sono e cosa sono i grandi proprietari immobiliari in una città come Milano ma credo valga ovunque, è estremamente difficile, estremamente complesso magari i dati ci sono, magari si trovano male ma poi vanno anche studiati cioè non basta semplicemente il numeretto, quindi c'è da fare sicuramente molta più ricerca e da questo punto di vista c'è sia l'art core, mettiamola così, sia il pezzo della terza missione dell'università che credo in questo momento sia fondamentale, la terza missione è la missione diciamo di divulgazione dell'università verso l'esterno e lavoro anche con gli altri soggetti sui territori c'è un discorso strettamente politico che è questo, nelle sue tante declinazioni c'è quella anche poco di mobilizzazione di piazza perché ce ne è molto molto bisogno e anche invece diciamo il discorso un po' più di back end, quello che si fa facendo pressione a tanti livelli diversi. C'è un discorso sicuramente di comunicazione e di inchiesta che è proprio un'altra cassetta degli attrezzi in qualche modo, per esempio il lavoro che fa Sara ma stavo pensando prima a novembre-ottobre ero alla BA e c'è avuto una specie di momento proprio di estasi mistica quando c'era Alice Facchini che è riuscito a spiegare in 5 minuti la questione del PNRR degli studentati che avevo provato a capire per mesi e lei lo spiegava benissimo in 5 minuti in modo appuntabile e ha detto wow, e c'erano soprattutto, credo un centinaio soprattutto di studenti. E poi c'è l'altro asse che è quello, se sarà capito insomma con cui tendo a guardare molto le cose, che è quello strettamente culturale, del lavoro culturale da questo punto di vista perché se, un po' mi rallaccio a quello che dicevo prima in qualche modo ci sono delle fratture, delle crepe possibili negli immaginari sulla casa questo vuol dire che c'è bisogno di costruire immaginari nuovi e lì c'è da sbizzarrirsi in qualche modo. Cosa vuol dire? Ad esempio c'è da fare letteratura, c'è da fare saggistica c'è da fare science fiction ad esempio, una mossa molto intelligente rilasciando il discorso su gli attivisti del clima che è stata fatta nell'ultimo decennio e quella del solar park quindi la fantascienza che si immagina futuri ecosostenibili dove l'energia è rinnovabile eccetera eccetera. E forse ci si può immaginare anche, non so, un housepunk, non so come dire una fantascienza o in generale dei lavori di immaginario che vanno a proiettare nuovi mondi dell'abitare possibile. Questo si fa con la letteratura, col teatro, con i fumetti e ultimo pezzo su questa cosa qua, mi riallaccio, sono ovviamente molto molto d'accordo con quello diceva adesso Alessandro, sulla necessità di pensare al respiro molto ampio dal punto di vista territoriale e quindi anche non solo, le città non finiscono mai dove c'è il comune, c'è l'area metropolitana e poi c'è quella espansa ancora di più però perché possa succedere questa cosa, c'è bisogno anche di trovare dei modi di rendere almeno in qualche modo parzialmente urbane le zone che invece sono completamente suburbane. Io ho vissuto per sette anni nell'ultra Interland di Milano e quando, diciamo, il capitale recente, il nostro politico locale ha detto ah bellissimo andiamo tutti a vivere l'Interland perché la città costa troppo, gli ho detto scusa vacite, nel senso che io non ci torno più così com'è adesso per lo stile di vita che ho io, sono convintissimo che offra risposte meravigliose a un sacco di persone, ma perché non ci vado? Perché è ipourbano dal mio punto di vista, moltissimi degli Interland sono posti dove appunto sono dormitori adesso, non solo ma molto, però questo vuol dire che per distribuire il valore e le logiche dell'abitare nell'area metropolitana c'è bisogno di riurbanizzarla e questa cosa si fa moltissimo anche con la cultura, cioè quel tipo di offerta che teoricamente, offerta brutta parola da questo punto di vista, il modo di vivere urbano che si trova in centro perché è denso va portato anche in altri posti.